Intanto è di buon auspicio perché chiudiamo il 2016 e apriamo il 2017 con un'opera pubblica fondamentale, importantissima, quindi ha un valore simbolico e un valore logistico, il valore logistico è che finalmente rimettiamo insieme il nord di Salerno e il sud di Salerno con un'arteria di fondamentale importanza non soltanto per coloro che vivono il territorio quotidianamente ma soprattutto per coloro che vivono il territorio annualmente di estate quindi significa tantissimo per la stagione balneare, significa tantissimo per il turismo, significa tantissimo per il trasporto su gomma, ha una funzione logistica fondamentale, importantissima per l'intera provincia di Salerno e soprattutto per tutto ciò che sta al sud di Salerno. E poi il valore simbolico è che finalmente due territori che per tanti anni, troppi anni, sono stati divisi proprio da questa arteria che non funzionava in quanto chiusa il traffico, oggi la riapriamo e quindi acquista veramente un valore simbolico di grande significato di unità, di sinergia. Poi un ringraziamento a tutte le maestranze, alla ditta Castaldo, alla polizia, ai carabinieri, insomma, alla comunità montana che in questi giorni si è adoperata per pulire la carreggiata a destra e a sinistra, insomma, da sterpaie, da erbe, da rifiuti vari. Quindi, credo, tra l'altro in un tempo record, 150 giorni, insomma, bisogna tener conto di quello che è successo anche in questo anno, il nuovo codice sugli appalti pubblici, era un progetto definitivo e non esecutivo, quindi nei 120 giorni abbiamo, cioè prima ancora dell'inizio dei lavori, abbiamo chiuso il tutto con un progetto esecutivo, 150 giorni, oggi alle 10 in inaugurazione dell'arteria e alle 12 l'apertura al traffico, mi sembra un record. Ecco, adesso diventa importante il monitoraggio, la manutenzione e forse richiama in causa anche un discorso che la stessa provincia sta portando avanti di passare le competenze all'ANAS per quanto riguarda la gestione di questa strada. Sì, poiché è una strada importantissima, lo abbiamo già detto e lo ribadiamo, credo che se l'ANAS la prende in concessione, la manutenzione ordinaria e straordinaria passerà alle maestranze dell'ANAS. Non è soltanto questa strada, io voglio ricordare che la provincia di Salerno deve accudire a 2800 chilometri di strada, per cui con le scarse energie, con le scarse risorse economiche che ci ritroviamo, ricordo che solo ieri abbiamo chiuso il bilancio, con le scarse economie che ci ritroviamo, se affidiamo un migliaio di chilometri di strada all'ANAS facciamo una cosa saggia. Diciamo che non potevamo concludere l'anno in maniera più esaltante, come diceva prima il presidente De Luca, effettivamente abbiamo mantenuto un impegno, un impegno importante che ha visto la regione Campania protagonista, protagonista soprattutto del fare e della concretezza. Ricordiamo che questa arteria principale per il nostro territorio, soprattutto per lo sviluppo turistico del Cilento, era ormai chiusa e abbandonata a se stessa da circa tre anni. Devo dire che proprio il saper fare, l'amministrare bene di De Luca portato in regione Campania ha consentito di sbloccare fondi importanti e sostanziali per i lavori di questa strada, di questa arteria, tant'è vero che possiamo dire che la Cilentana rappresenta un vero esempio di rapporto istituzionale corretto, perché tutti gli enti coinvolti a partire dalla regione, a partire dalla provincia e quindi dall'apparato burocratico e amministrativo si è mostro in un'unica direzione e oggi raccogliamo i risultati. È chiaro che la soddisfazione è estrema, estrema perché i lavori sono iniziati a luglio di quest'anno, dopo varie vicissitudini anche giudiziarie, di contenziosi e amministrativi. La ditta è stata una ditta seria perché ha eseguito i lavori mantenendo gli impegni anche lavorando di notte. Durante questi mesi mi sono permessa così, in via del tutto anche ufficiosa, di verificare i lavori, ma non perché dovessi controllare i lavori, ma semplicemente anche per rendermi conto dello stato dell'arte e dare un senso di vicinanza agli stessi operai che hanno speso il loro impegno qui sulla Cilentana. E oggi, ripeto, credo che si scrive effettivamente una pagina bella per il nostro Cilento. Dopo tanti anni di completa disattenzione, per la prima volta, in 5-6 mesi, abbiamo quasi mantenuto degli standard europei nella realizzazione di lavori importanti come questi. Quindi il futuro, da questo punto di vista, con la riapertura della Cilentana è sicuramente più roseo. Sì, grazie a una concertazione c'è stato un grande impegno da parte di tutti, da parte nostra, ma anche da parte della provincia, da parte degli organi di controllo, carabinieri, polizia, c'è stata tutta una concertazione che ha fatto sì che i lavori andassero avanti senza nessun disturbo di alcun genere e senza problemi burocratici per lungaggini amministrativi, per cui siamo riusciti a realizzare quest'opera in tempi brevissimi. In genere in Italia si sa quando inizia un'opera, ma il difficile è realizzarla e completarla. E ancora il più difficile è poi collaudarla. Noi invece siamo riusciti a iniziarla, realizzarla e anche collaudarla senza vangare nessun passaggio per la sicurezza e per la staticità della stessa. Quante persone invece hanno lavorato su questo cantiere? Mediamente una cinquantina di persone sono state impegnate per certi periodi, anche giorni e notte. Quando invece completeranno proprio al 100% i lavori? Perché sappiamo che stamattina riapre il viadotto regolarmente, però continueranno degli interventi. Noi abbiamo avuto l'ultima azione dei lavori sostanziali. Ci sono da realizzare piccole opere complementari, ma che assolutamente non influiscono sulla fruibilità dell'opera, della strada. Quindi sono assolutamente opere ancellari e non sicuramente sostanziali. Questa è la prova tangibile che quando ci sono i fondi a disposizione ci sono pure delle ottime professionalità e la politica riesce a dare anche le risposte. Purtroppo quando non ci sono fondi a disposizione i disagi aumentano. Però al di là di quello che è stato, bisogna dire che è stato fatto tutto in soli cinque mesi. Se pensiamo che si ipotizzava di aprire almeno una corsia per l'estate, per luglio e agosto non ci siamo riusciti, però per l'anno 2017 siamo riusciti ad aprire. Come ha detto il Presidente della Regione ci sono altri 3 milioni di euro, perché poi non è che con l'apertura del viadotto finiscono i problemi. Questa è una strada estremamente pericolosa, lo sappiamo. Molte volte dobbiamo contare incidenti anche mortali, quindi con i 3 milioni faremo la manutenzione anche nei tratti successivi e più a sud. Quindi un ringraziamento a chi ha lavorato notte e giorno rispettando l'impegno. Un ringraziamento a tutto lo staff tecnico della provincia che ha fatto trovare il progetto pronto e che quindi non abbiamo avuto nessun problema, tranne un piccolo ricorso al TAR che ci ha fatto perdere un mesetto. Un ringraziamento particolare al Presidente della Regione e al Consigliere regionale Luca Cascone che poi sono stati coloro i quali ci hanno messo i soldi e che ci hanno consentito di poter realizzare l'opera e quindi evitare i disagi. L'ho detto il Presidente della Regione, se vogliamo fare turismo, il turismo non è solo il mare, non è solo l'attività ricettiva, il turismo è tutto un indotto fra cui la mobilità. Ci sono altri fondi, cominceremo a lavorare sulla Fondovalle e quindi colleghiamo anche le zone interne per farle venire sulla zona costiera, stiamo lavorando, ci accingiamo a fare una campagna elettorale in provincia, speriamo che la provincia possa ancora dare delle risposte ai cittadini. Finisce un periodo di grande disagio, di frustrazione, di rabbia per le popolazioni del Cilento che hanno subito questo disagio per anni, quindi alle nostre spalle c'è un problema che non è più un problema e quindi bisogna prendere un po' questa rincorsa a fine anno per affrontare i tanti problemi che attanagliano il nostro territorio, la nostra campagna, ma mi pare che questo sia l'esempio per come le cose quando si affrontano in maniera concreta si possono risolvere. Diciamo che è un modello a cui ci possiamo ispirare, perché è vero che si è perso tantissimo tempo prima, però con il presidente De Luca, l'immediatezza del finanziamento, il cantiere che ha seguito il suo iter naturale e ha consegnato i lavori nei tempi giusti, sono cose normali a cui probabilmente non siamo abituati. Assolutamente sì, è un giorno importante perché ridà dignità a questo territorio che è stato martoriato per parecchi anni, sia per quanto riguarda i cittadini di questo territorio che dal punto di vista turistico. Sono quattro anni che subiamo in qualche modo questo blocco e io direi di fare un grande ringraziamento sicuramente ai cittadini per la pazienza e al presidente De Luca perché appena è subentrato al governo della regione ha stanziato immediatamente i finanziamenti per poter intervenire. Ovviamente noi dobbiamo pensare che questa è un'alteria fondamentale che qui mi andava assolutamente ripristinata, però c'è bisogno, come peraltro il presidente ha detto poc'anzi, di manutenzione e di intervento anche delle strade provinciali e delle strade interne perché noi dobbiamo comunque garantire l'accessibilità a tutti e garantire dei giusti servizi ovviamente ai cittadini residenti. A proposito di manutenzione, lei insieme anche a altri suoi colleghi del PD ha più volte sostenuto la necessità, l'importanza proprio per la complessità dell'arteria di passare le competenze all'ANAS. Io credo che questo sia un passaggio sul quale bisognerà lavorare perché ovviamente anche con la trasformazione delle province che iniziano ovviamente non avere nemmeno dei finanziamenti o comunque dei bilanci che permettono manutenzione e interventi, il passaggio all'ANAS garantirebbe sicuramente un controllo, una manutenzione e anche l'individuazione di responsabilità perché quello che si è evidenziato in questi anni è che spesso non si comprende di chi sono le responsabilità e nel frattempo che si comprende di chi è, i cittadini ovviamente subiscono disservizi e blocchi. Quindi questo è un passaggio sul quale stiamo lavorando insieme agli altri colleghi e speriamo in qualche modo di riuscire ad aggiungere a questo intervento. Oggi si completa innanzitutto quest'opera che è importantissima e fondamentale, dopodiché bisogna fare appunto un lavoro sulla manutenzione, noi da tempo si stiamo battendo perché l'ANAS possa acquisire anche quest'altra parte dell'accidentale perché è una parte già di competenza ANAS. Ovviamente sappiamo che le risorse e il piano di programmazione di ANAS è importante a livello nazionale, quindi questo garantirebbe una stabilità di risorse, di investimenti e una manutenzione che oggi purtroppo le province anche per le note difficoltà finanziarie non sono in grado di realizzare. Quindi la nostra battaglia parlamentare continuerà, come è noto il sottosegretario dell'infrastruttura è venuto a rispondere all'interrogazione mia dell'onore di Annuzzi in commissione dove ha puntualizzato questa opportunità. sappiamo che molto lavoro può fare la Regione da questo punto di vista perché c'è l'idea di iniziare a trasferire 7.000 km di strade provinciali in tutta Italia ad ANAS, ovviamente suddivisa per Regione e quindi su questo è necessario che poi la Regione faccia anche un lavoro di pressione sul Ministero, ovviamente accompagnato anche dal nostro lavoro parlamentare. Quindi credo che questa sia la battaglia necessaria per il futuro come il completamento di altre infrastrutture. Questa mattina il Presidente Luca ha preannunciato anche a breve l'avvio degli investimenti sulla Fondovalle Cavoloro che è un'altra opera fondamentale per il cilento e per l'area più interna. Quindi cominciano a muoversi dei passi e speriamo anche di riuscire su questa strada a fare il lavoro che bisogna fare con l'ANAS perché siamo assolutamente consapevoli che la manutenzione che potrà garantire per il futuro ANAS non la possono garantire altri enti. Buongiorno signor Garibaldi, che cosa ha detto e regalato al Presidente Luca? Al Presidente Luca mi ha fatto piacere che è venuto nel cilento e ha aperto questa strada. Gli ho dato un mazzo di fiori, ma noi fiori simboli. Accentro l'oliva perché noi vogliamo la pace, Presidente Luca. Pace nei nostri cuori, ma non solo nei nostri cuori, in tutti i cinque continenti. Era l'oliva. Poi ci stia la quercia, è una pianta molto diffusa nel nostro territorio, particolarmente nel cilento. La quercia ha detto la cerza. È una pianta resistente. De Luca noi resistiamo ancora, non so per quanto tempo ma resistiamo. Poi c'era un'altra pianta, un lavoro. De Luca, vittoria nella sconvitta. E poi, caro De Luca, lo festeggiamo con la Sambuca. E se la Sambuca è mulinara, è certo mulinara, puoi andare anche al Quirinale. Vai De Luca che vi festeggiamo con la Sambuca. Ciao Italia. Per il nostro territorio la viabilità è prioritaria, sicuramente particolarmente importante da tutti i punti di vista, sia per far vivere meglio le nostre famiglie, sia per portare avanti quel turismo sostenibile che tante volte sosteniamo. La Cilentana è una di quelle strade che ormai da anni era ferma e bloccava in uno dei punti, tra l'altro, nevralgici e più importanti del territorio. Oggi c'è un impegno mantenuto. Quando c'è una politica che mantiene rispetto agli impegni, va dato atto alla regione, al Presidente Luca, alla provincia, quindi al Presidente Canforo, con tutti i consiglieri, che veramente oggi è un giorno in cui la politica fa delle cose concrete. È evidente che le problematiche sono tante altre rispetto alla viabilità e che bisogna continuare ad affrontare. Però oggi c'è un dato concreto, una politica che mantiene gli impegni. A proposito di altre criticità sul fronte viabilità, ci sono tante altre strade, anche meno importanti della Cilentana, ma che sono fondamentali per la vivibilità quotidiana dei territori. Sono previsti ulteriori interventi? Assolutamente sì. La viabilità, ripeto, oggi anche noi come parco abbiamo deliberato in questo senso e soprattutto abbiamo presentato il primo progetto del parco, del nuovo corso del parco, proprio sul tema della viabilità. Oltre al fatto che riteniamo che anche la mobilità legata alle ferrie è un altro punto strategico che bisogna potenziare, bisogna sviluppare perché rappresenta un mezzo di collegamento importante. Certo, ci sono anche altri interventi previsti. Noi abbiamo dato delle priorità come territorio. È evidente che dobbiamo fare i conti con le risorse, perché chiaramente le risorse economiche ci vogliono grossi investimenti, però riteniamo che sicuramente oggi mettere a posto le strade, consentire la possibilità di accedere ai nostri comuni e, ripeto, di far vivere meglio anche chi ci vive, perché poi parliamo dello spopolamento, ma se noi non diamo servizi, se noi non mettiamo in sicurezza le strade e non creiamo molte volte quello che avendo, perché molte sono interrotte, è chiaro che lo spopolamento continua. Allora, se noi vogliamo invertire questa tendenza, dobbiamo iniziare a dare servizi per il nostro territorio e la viabilità rappresenta uno dei servizi essenziali, a mio avviso. Numeri tecnici. Noi abbiamo cominciato i lavori a marzo del 2016, abbiamo avviato la demolizione a aprile, abbiamo fatto il contratto con l'impresa alla giudica definitiva a maggio, abbiamo fatto il progetto esecutivo e validato a luglio, abbiamo cominciato i lavori strutturali il 23 luglio e abbiamo finito i lavori strutturali del viadotto il 23 novembre, dopo quattro mesi esatti. Poi siamo stati un mese a aspettare la maturazione del cemento, abbiamo fatto le prove, il collaudo, abbiamo fatto la bilbare di presa di consegna ieri e oggi abbiamo aperto. Quindi siamo stati, come dire, abbastanza efficaci. E questo mi fa piacere perché è un'efficacia che è figlia del lavoro non solo mio della provincia, ma soprattutto della regione, della provincia, del comune di Agropoli, di tutte quelle imprese, eccetera. E quindi di tutti quelli che sono stati coinvolti in questa cosa. L'ha già accennato anche in altre interviste, ci sono degli interventi complementari che fanno parte di questo appalto del viadotto? No, l'intervento complementare è su Agropoli, dobbiamo finirlo e poi sulla Frana ancora qualcosa da fare. Poi abbiamo, il Presidente De Luca ci ha detto, e adesso lo farà, credo, che ci danno i soldi del ribasso, quindi ci danno 2 milioni e 7, perché noi abbiamo speso 5 milioni e 300 mila Euro, a proposito di numeri, per essere precisi. Sugli 8 finanziati. Sugli 8 finanziati. E quei 2 milioni e 7 ce li dà per fare due cose. Uno è la messa in sicurezza del viadotto Buonconte, che sta sulla Dica Lento, che ha dato qualche problema in passato ed è sotto motoraggio, non si è mosso, però va un poco richisto. E da un lato, e poi per migliorare il lavoro, la quantità di soldi che abbiamo sul lavoro della Frana a Vallo della Lucania, sempre sulla Cidentale, per la quale abbiamo un milione di Euro e ce ne vuole un altro milione, purtroppo, perché mentre ci hanno dato il finanziamento, sono passati due anni, la Frana è peggiorata e ci vogliono più soldi. Ecco, oltre alla Cilentana ci sono anche tante altre strade provinciali che necessitano di interventi, a che punto siamo con l'Iter? Dunque, noi abbiamo la Fondo Valle Calore, per la quale abbiamo appena avuto il rifinanziamento della regione, di 9 milioni di Euro, e lì, questo è importante, perché lì possiamo riprendere i lavori molto presti, io credo che già all'inizio del mese di febbraio ricominciamo, mettiamo in piedi il cantiere, l'impresa c'è già, lavori interrotti da quattro anni, una vergogna, adesso dobbiamo riprendere i lavori, lo faremo e faremo anche questo lotto della Fondo Valle, così come abbiamo fatto questo, con 9 milioni ce la facciamo, credo, facciamo quest'altra cosa, un'altra sfida. Una giornata importante perché finalmente è stata messa in sicurezza, è stata assicurata la riapertura e quindi la possibilità per gli automobilisti di avere il tracciato della cilentana nella sua dimensione complessiva e quindi evitando questa strozzatura che francamente ha conosciuto molto le attività turistiche e ha rappresentato anche un punto molto critico e molto negativo per l'intera provincia di Salerno, quindi l'uso di tratti importante, naturalmente ora dobbiamo porci il problema delle prospettive della manutenzione del governo e della tenuta quotidiana e permanente della cilentana. Io ho sempre sostenuto con interrogazioni parlamentari nel rapporto istituzionale con la regione Campania, con il ministero delle infrastrutture e con l'ANAS, che ci sono tutte le caratteristiche che la legge esige per il trasferimento, o meglio per il ritorno all'ANAS, del governo e della manutenzione di questa arteria di 73 km, perché siamo di fronte ad una strada che ha un bacino sicuramente ultra regionale, che serve non soltanto la provincia di Salerno ma serve la regione Campania e tante altre regioni, perché questa strada collega il cilento che è ricco di località di grande rilievo turistico nazionale e internazionale con l'autostrada 3 Salerno-Reggio e quindi svolge una funzione sicuramente che va al di là della regione Campania, che interessa più territori e più regioni, interessa l'intera Italia e che quindi è giusto che torni nel governo dell'ANAS. Il procedimento è iniziato con la proposta della provincia, dobbiamo accelerare e svolgere un lavoro di squadra con la regione, i parlamentari, i comuni e anche l'ente provincia perché si tratta di una battaglia giusta per le intere comunità della provincia di Salerno, perché il ritorno all'ANAS della gestione della cilentana significa anche consentire all'amministrazione provinciale di concentrare risorse in verità circoscritte per la viabilità su tutte le altre strade provinciali che interessano il territorio della nostra provincia. Salerno-Reggio e quindi